E' stato presentato ufficialmente il gruppo di lavoro denominato Monte Corvino Città dell'Astronomia che sarà il punto di collegamento fra il comune di Monte Corvino Rovella e l'ente planetario. Il gruppo, formato da esponenti dell'amministrazione, del forum dei giovani e da tecnici del settore, fornirà il supporto per l'organizzazione di iniziative di divulgazione culturale legate al planetario. Finire il planetario, lavorare affinché si possa arrivare alla conclusione, andare in regione per ottenere l'ultimo finanziamento necessario per poterlo completare e dopodiché una volta completato e messo al regime che possa diventare come crediamo che diventi lo strumento principale per il rilancio economico e sociale di questo paese. Secondo lei i tempi per quanto riguarda il secondo lotto quali sono? I tempi vedremo subito, ci metteremo al lavoro, appena pronti il progetto lo porteremo in regione Campania e faremo il possibile per avere nel minore tempo possibile. Invece il gruppo di lavoro costituito che importanza ha nell'interlocuzione con l'ente planetario? Credo che sia molto importante perché sono tutti giovani che hanno voglia di fare, che hanno voglia di collaborare, che devono mettere un collante tra l'amministrazione comunale, tra l'osservatorio, il tessuto sociale montecorvinese che può servire a dare una verve forte a questo impatto del planetario. Montecorvinio-Rovella, città dell'astronomia, questo è l'obiettivo? Città dell'astronomia e della musica, il nome lo dice già tutto, quindi dobbiamo lavorare affinché tutto possa girare intorno a questo progetto, intorno all'astronomia, intorno al rilancio di questo oggetto di Montecorvinio-Rovella. Il gruppo di lavoro nato oggi, chiamato Montecorvinio-Città dell'astronomia, servirà proprio da supporto agli assessori e all'amministrazione tutta per meglio divulgare quello che si sta costruendo a Montecorvinio-Rovella, che appunto è chiamata città dell'astronomia e come amministrazione, come nuova compagine politica, fino al primo giorno stiamo lavorando per portare a termine il planetario San Pietro, cercando di riallacciare il dialogo con i membri dell'ente planetario e di portare avanti l'unico volano economico che abbiamo qui sul nostro territorio.